Amici di WeTrading, oggi vi parlo di criptovalute, Bitcoin, Ethereum e tante altre che hanno avuto un enorme successo per via dei forti trend rialzisti che stanno attirando l'attenzione sempre di più persone. È giusto capire che si tratta di criptovalute, cioè di strumenti digitali molto rischiosi quindi chi si avvicina a questo campo deve subito individuare un alto rischio in questi strumenti ed è vero che sono saliti tantissimo negli ultimi anni o negli ultimi mesi facendo guadagnare sicuramente tanti soldi a chi aveva creduto in questi progetti ma è anche vero ricordare che così come è stato rapido il guadagno poteva anche essere molto rapido la perdita. Allora tutti i broker si sono avvicinati anche a questo mondo offrendo un po' la loro versione di trading di criptovalute. Io vi voglio far vedere IQ Option e Markets perché? Perché sono due piattaforme molto semplici, si trovano online, non hanno bisogno di installazioni particolari e partendo da Markets che trovate quindi nella sezione che possiamo prendere quindi ricerca di strumenti 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 scusate, eccoli qua abbiamo allora il Dash l'Etherium, Litecoin, Bitcoin e basta mi pare, quindi non dovrebbero essercene altri sono nella sezione doveva esserci qui la sezione cripto che avevo trovato, eccola qua cripto che poco fa non trovavo quindi abbiamo le versioni in euro, le versioni in dollari e anche il Bitcoin cash come notate qui è possibile guardare i grafici studiarli, quindi sotto l'aspetto grafico Markets è molto consigliato perché prendendo quindi il Bitcoin è possibile quindi fare degli studi secondo i propri indicatori a che ci metti, ad esempio ho messo l'Ishimoku e siamo in una fase ad esempio del Bitcoin che si avvicina ai fattifici 5 mila dollari magari potrebbe anche essere il momento di vedere questi trend tra le coppie diciamo meno conosciute sicuramente c'è il Dash e l'Etherium e poi abbiamo anche il Litecoin versione USD o Litecoin versione euro e poi anche Ripple che è quello più che diciamo costa meno tra virgolette, io avevo fatto in passato qui l'investimento l'ho fatto vedere, abbiamo reddoppiato il capitale quindi ad esempio potremmo valutare di riproporre questo investimento quindi come si fa? basta cliccare su acquista prendiamo il contratto minimo e qui indica il margine richiesto ad esempio questo conto è 52 euro erano veramente le 25 euro gratis che da Markets li ho trasformati in 52 quindi ad esempio posso investire non so, 6 euro da 8 a 6 euro il mio margine oppure anche di meno e in questo caso quindi invio l'ordine al mercato per l'acquisto posso anche inserire uno stop e un take lo stop mi sembra impossibile perché comunque rischio e tutto il mio capitale ne sono a conoscenza e il take profit che mi dice anche quanto guadagnerei in caso di take profit ad esempio mettendolo a 0,25 andrei a prendere 3,74 euro su 5 euro di risk quindi se lo mettessi a 0,30 ne prendo 13 quindi quasi un po' più del doppio quindi mi sta bene faccio invio ed ecco qua la posizione con l'uscita in pratica sui massimi quasi sui massimi precedenti magari lo modifico un po' nelle posizioni aperte andando a mettere un valore di 0,29,50 così da toccare diciamo il massimo precedente eventualmente se ci dovesse essere un doppio massimo sono pronto quindi per uscire da questa posizione mentre con iQoption abbiamo una piattaforma secondo me molto più completa perché ci sono innanzitutto 12 sottostanti più conosciuti quindi i soliti che c'erano dall'altra parte poi abbiamo Iota, Omisego, Sentiment, Monero e Zeta Cash sono tutti strumenti da non sottovalutare perché hanno avuto anche qui un enorme successo ad esempio non ero risalito tantissimo e riuscendo a trasformarsi dai 35-40 ai 135 allora tutte queste criptovalute possono essere anche qui comprate con importi che potete scegliere voi ad esempio possiamo mettere non so questo è un conto dimostrativo quello è un conto reale ad esempio 100 euro e indicare io voglio uscire se guadagno non so 25 euro e se perdo 25 euro quindi faccio cioè guadagno il 25% e se perdo il 25% scusate quindi in teoria sono 25 euro oppure posso dire non mi serve la perdita per me la perdita può essere anche del 85% e voglio invece uscire al 25% di guadagno clicco su acquista e la posizione viene acquistata come notato qui possiamo anche chiuderlo in anticipo possiamo modificare il take e lo stop e so in tempo reale quanto guadagno e quanto perdo la cosa buona è che posso investire anche piccoli importi 3,50 euro 2, 3, 4 quindi molto molto interessante perché posso anche creare un mix di strumenti accumulare quindi una serie di prodotti e man mano che questi si muovono nel tempo magari riuscire a portarli diciamo a profitto questo è il bitcoin in dollari no in euro scusate no no questo è quello in dollari sì ad esempio potrei comprare che ne so 50 dollari 56 oppure altri 100 dollari di bitcoin mi voglio prendere anche qui un guadagno del 25% acquisto quindi se dovesse salire nel 25% vado ad ottenere un guadagno automatico altrimenti lo chiudo cliccando sulla posizione chiudi quindi sono due strumenti molto simili vi riconsiglio per iniziare a provare il vantaggio di markets che all'iscrizione vi danno 25 euro gratis iqoption invece il vantaggio è che potete depositare a partire da solo 10 euro trovate i link su vtraining confronto broker iqoption e markets quindi iscrivetevi e fatemi sapere poi come sono andati i vostri investimenti a presto e buon trenino a tutti